l'errore poi luca valentini dentro per gora camara assiste di valentini tomasini sull'uscita si prende il tiro da due punti simone tomasini camara con la tomasini approfitta del blocco del suo centro poi si arresta per un tiro dalla media distanza spalla canestro martinoni contro hawkins martinoni attacca contro hawkins prende ritmo per il suo semigancio niccolò martinoni un marchio di fabbrica campo che pollone per biella qui la bella palla di thompson per simone tomasini il palleggio il blocco per lui da parte di camara la riapertura per thompson che attacca thompson con la mano sinistra con eleganza numero 14 niccolò martinoni tiro da tre punti di fabio valentini realizzato entrare in campo in questa partita tomasini si alza dalla media il giro difficile di simone tomasini due per lui ma lo mette a segno 5 3 in questo secondo quarto martinoni per tomasini senza pensare da tre punti simone tomasini non solo uno sport ovviamente insomma si sta provando a ripartire nel migliore dei modi possibili intanto il tiro da tre punti di fabbio valentini blocco di martinoni la palla restituita a fabbio valentini fatto molto bene questa volta il passaggio dentro 3 per casale in attacco luca valentini scarico per thompson che si prende il tiro da tre punti santo soli luca valentini seguita ancora dentro la palla scaricata fuori molto bene per simone tomasini valentini dentro per thompson la schiacciata di sam thompson il rimbalzo controllato a luca valentini valentini pallone che arriva ora thompson questa volta con tempi migliori per attaccare va con il flutter stem thompson intanto rimbalzo d'attacco di hawkins dopo l'errore di lagana controllato poi rimbalzo da martinoni e thompson valentini blocco sulla palla da parte di camara la palla in angolo per thompson da tre punti sam thompson che ha preso ritmo la palla intercettata da sam thompson che ha tutto lo spazio per andare a schiacciare mislienovic riceve poi va a bloccare per fabio valentini che non ci pensa solo si prende il tiro da tre punti fabio valentini che mette palla per terra e la perde con thompson che vuole subito andare da luca valentini in campo aperto realizza luca valentini subendo anche fallo 8 secondi 7 secondi thompson con lo step back il tiro da 2 di sam thompson camara riceve da tomosini vuole giocarsi alla spalla canestro contro barbante gore camara che riceve ora da luca valentini consegna a fabio valentini sale a bloccare camara per lui in ala thompson si prende il tiro da tre punti non mi piace io il